In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, oggi vi voglio parlare di un esempio di tabernacolo. Questa fotografia che ho trovato su internet ce lo illustra. E' un tabernacolo molto particolare perché oltre al luogo della custodia, che è questa parte inferiore, dove voi vedete la porticina che riflette la luce perché è lucida, c'è anche una parte superiore. Cioè si prolunga in alto con una specie di tempietto che si chiama tronetto. Di solito, ecco in questo tempietto, è custodita la croce che deve restare durante tutto l'anno. E al posto della croce, in certe circostanze, come nelle quarant'ore o quando viene esposto il Santissimo in forma solenne e anche prolungata, si toglie la croce e si mette lo stensorio con il Santissimo Sacramento per l'adorazione. Vedete come questo tabernacolo è veramente monumentale, è molto grande, è tutto di marmo, è fatto, vedete, il tempietto che possiamo chiamare anche ciborio o tronetto. Questo tabernacolo è aperto, non ci sono porticine, ha il frontone con il timpano triangolare e termina con una cupola. Al di sopra della cupola una piccola sfera e una croce è alto e veramente imponente. Anche l'altare è un grande altare, molto lungo, guardate le dimensioni, sono veramente grandi. Questa chiesa che può essere dell'Ottocento o tutt'al più dell'inizio del Novecento, è una chiesa molto bella perché è rimasta praticamente intatta nelle sue strutture fondamentali. Entrando dalla porta ci si parla davanti questo altare monumentale e meraviglioso che dice con chiarezza che l'Eucarestia è al centro della chiesa cattolica ed è al centro della vita dei fedeli, non solo durante la Messa, ma anche dopo la Santa Messa con l'adorazione quando viene esposto il Santissimo Sacramento. Questa chiesa è la pieve di pieve di Cadore, ecco perché l'altare è così importante, perché le pievi fino al concilio di Trento avevano una grandissima importanza. Nel Cadore lo hanno mantenuto fino a qualche decennio fa. La pieve era una giurisdizione più piccola delle diocesi. Le diocesi erano suddivise in pievi e non in parrocchie come dopo il concilio di Trento. Ecco, queste bandierine che sono esposte lungo i pilastri della Navata portano il nome delle cappelle che si sono staccate progressivamente da pieve di Cadore lungo i secoli, formando delle parrocchie autonome. Ecco, con questo breve video volevo soltanto illustrarvi su un esempio di tabernacolo. Vedete che il nuovo altare posticcio, quello successivo al concilio Vaticano II, questa macchia di colore blu, veramente ostacola la vista all'altare maggiore per chi entra. E per queste nuove strutture, l'architettura di un tempo non è il luogo adatto. Si trovano sempre spaesate queste nuove realtà. Non trovano il loro luogo di inserimento. E purtroppo le sovrintendenze delle belle arti hanno dato il permesso nel passato addirittura di smantellare opere d'arte interi presbiteri per fare posto a queste nuove strutture, per dare loro una sistemazione decente. Ma capite anche voi che sono veramente fuori luogo. Come tutta la nuova liturgia è fuori luogo all'interno della dottrina cristiana e della Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo. In nomine Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen.